Lo stadio Braglia anche per questa stagione resterà tabù per la Virtus Lanciano e non si può certo dire che i rossaneri abbiano fatto il possibile per rompere questo sortireggio, visto che in terra emiliana hanno dato vita alla prestazione più deludente di questo avvio di stagione. Il Modena si impone di misura 1-0, ma se il divario fosse stato più ampio non ci sarebbe stato nulla da dire. Virtus è l'altezza dell'avversario nel primo tempo, ma che scompare del tutto nella ripresa quando, messa più volte alle corde, va al tappeto a 5 minuti dalla fine. D'Aversa vicenda Lanini con Di Francesco e riserva le novità principali mediana. Panchina per Crecco e Bacinovic, dentro Vastola e Paghera con l'intoccabile Di Cecco. Senza Granoce, autumese, Crespo risponde rispolverando Mazzarani, dietro le punte Stanco e Soe. Aridità trema e si salva alla bene meglio sul venenoso corner di Mazzarani. La Virtus risponde prima con l'assolo di Piccolo, che semina il panico in area canarina prima della botta alta di Vastola. Lo stesso Vastola si conferma il più pericoloso di suoi, andando a chiudere sul primo palo dopo l'azione di Lanini, prove del sventa distinto. Da questo momento la Virtus inizia a dissolversi, l'ex pescarese Soe si mostra attivissimo e trova l'esterno della rete. Poi va ad incornare il bel cross dalla destra del moto perpetuo Calapai, ma la mira è alta. Nel finale di frazione un'azione tamboreggiante modenese porta il cross di Giorico e la girata al volo di Mazzarani, smorzata da Aquilanti. Nel frattempo un guaio muscolare coglie aridità, che stringe i denti e arriva all'intervallo, ma poi alza bandiera bianca e lascia il campo a Casadei, che si disimpentiera molto bene. Nella ripresa un monologo della squadra di Hernan Crespo, Amenta in affanno stoppa stanco e poi disturba il piattone di Mazzarani. Casadei blocca, poi tocca a Rubin dalla sinistra a ispirare per Soe, che si districa bene in aria, ma dopo il dribbling Mammarella devia la sua conclusione a colpo sicuro. A metà tempo il solito Calapai mette dentro per la girata, fuori di un soffio di Soe. Crespo azzecca i cambi, dentro Galloppa e Bellingheri. Quello di D'Aversa con Di Francesco per piccolo non muta la situazione, anzi Casadei è reattivo proprio su Bellingheri e ritarda la capitolazione che arriva a 5 minuti dalla fine. Traversione di Calapai, sponda di Bellingheri e gran volè, mancina di Galloppa, che anticipa a Menta e fa secco l'incolpevole Casadei, facendo a crollare il fortino Frentano. Primo gol in stagione per l'ex centrocampista di Siena e Parma. La risposta della Virtus non c'è, anzi è il Modena a divorare il 2-0, prima con Bellingheri, poi col solito Soe. Casadei fa gli straordinari, finisce così 1-0, giornata da dimenticare per i rossonieri che si leccano le ferite in attesa di ospitare uno spezia lanciatissimo, necessario reagire.